Oggi a terza pagina, per la prima volta Angelo Brandoardi racconta la sua vita e la sua arte in un'autobiografia scritta assieme a Fabio Zuffanti. E con noi si è soffermato volentieri anticipandoci aneddoti e riflessioni. Io ho cercato di non fare un libro dove si racconta la musica esageratamente, perché come dice Dante la musica è rapimento, quindi non ha bisogno di spiegazioni eccetera eccetera. Quindi ho cercato, sì ho scritto i dischi eccetera eccetera, ma ho cercato aneddoti, storie, cose anche divertenti, altre meno divertenti, ma questo ho cercato di fare. Una volta intervistando Andy Surdi mi disse, quando preparavamo la luna pensavamo questo sarà sicuramente un fiasco, invece poi cos'è successo? Era una novità assoluta, c'era già world music, c'era questa ritmica di tamburi alla Nativi d'America. Io ho avuto l'aiuto, mi ricordo i tempi, l'ho avuto tante volte di Paolo Giaccio che passava per voi giovani, trasmissione mitica che i ragazzi non conoscono più, non ricordano, che non hanno mai sentito, ma era una trasmissione culto. E passava la luna, gli piaceva, poi c'era confessione di malandrino, insomma è lì che è iniziato il tutto, dopo una lunga gavetta e poi dopo è successo quello che è successo. Una volta hai definito Maurizio Fabrizio l'altra metà della mia mela. Sì, è stato ed è uno dei miei migliori amici, abbiamo collaborato per decenni, abbiamo suonato in giro per il mondo, abbiamo fatto un sacco di dischi, alcuni belli, magari alcuni meno belli, ma sempre per istinto e per il nostro piacere. A volte siamo stati sincronici, ottenendo successi clamorosi internazionali, a volte invece no, ma è normale in una carriera di decenni. Tu hai scritto anche con Maurizio Fabrizio dei dischi in cui c'è anche del contrapunto, cioè ci sono delle armonizzazioni molto complesse, no? Però dopo c'è tutto dici, forse hanno ragione i countrymen che dicono che bastano tre accordi, allora qual è delle due la verità? I countrymen dicono la frase è tre accordi e la verità, ma io adoro la musica americana, adoro Springsteen, ecco Springsteen mette tre, per tutta la vita ha fatto tre accordi, però ha scritto delle melodie tutte diverse l'una dall'altra, una più bella dall'altra, non so come faccia. Noi siamo europei, abbiamo studiato, quindi siamo pieni di contrapunti, progressioni armoniche. Ennio Morricone con cui ho avuto l'onore di lavorare riusciva a fare cose difficilissime e cose invece estremamente semplici e che arrivavano al cuore di tutti. Beh, è stato anche uno dei più grandi musicisti nel Novecento. Io ho sempre fatto del mio peggio.